ben trovati gentili telespettatori di cilento channel una nuova puntata di cilento focus oggi con tutti quanti voi ospite costabile spinelli ex sindaco di castellabate amico di cilento channel perché più volte al di là della sua carica istituzionale insomma è venuto a trovarci per parlare di una serie di problematiche per esporre concetti e quant'altro oggi è qui per una sentenza del tar per quanto riguarda l'ospedale di agropoli poi ne parliamo nello specifico con lui lui che si è tanto battuto per diciamo i diritti di noi tutti i cittadini del cilento e soprattutto di questa parte del cilento agropoli castellabate capaccio per ottenere insomma un ospedale funzionale ma poi ne parleremo come dicevo prima però lo saluto e poi continuiamo con il nostro buonasera buonasera gianni buonasera a tutti i telespettatori di cilento channel grazie dell'invito mi fa veramente piacere essere qui insomma e poter affrontare poter discutere di queste di queste di queste cose importanti ritengo sulle quali oggi insomma rischia di passare tutto in silenzio in sordina e invece credo che sia giusto mantenere l'attenzione anche informare sull'evoluzione delle delle di queste vicende una vicenda questa dell'ospedale che abbiamo trattato in diverse in diverse volte insomma ricorderanno tutti il ricorso del comune di castellabate io allora volutamente impugnai questo decreto del commissario d'acta per che riorganizzava la rete del del piano per la programmazione della rete ospedaliera insomma lì c'è stato un oggi siamo arrivati a sentenza oggi è stata pubblicata la sentenza si è tenuta l'udienza lo scorso 22 ottobre se non ricordo male in buona sostanza che cosa si contestava si contestava questo questo piano nasce da una legge che è una legge del 2015 la settanta del 2000 del 2015 che detta dei criteri nazionali degli standard nazionali per avere una uniformità di prestazione erogate in tutta la rete ospedaliera della nazione quindi una legge dello stato e con la quale viene approvato un regolamento questo regolamento stabilisce le prestazioni le funzioni minime che devono essere erogati in ospedale di di primo livello come questo che è l'ospedale civile di agropoli allora la contestazione stava proprio nella diciamo nel rispetto di questo regolamento nel rispetto di quelle che erano le prestazioni minime che dovevano essere garantite in questo ospedale e cioè un pronto soccorso che è la cosa fondamentale un pronto soccorso ma quando si dice pronto soccorso significa sale operatori significa laboratorio significa radiologia significa personale adeguato per coprire un pronto soccorso nel vero senso della parola per le 24 ore e quindi una serie sale operatori e quindi una serie di diciamo di connotati importanti affinché questo possa essere definito pronto soccorso e con la degenza che è importante questo quando è stato adottato questo criterio questo questo decreto era in contrasto perché mentre la legge insomma adottava questo regolamento e stabiliva questi criteri ripeto minimi essenziali l'ospedale di agropoli non aveva questi 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 criteri quindi si faceva riferimento a un regolamento che poi nei fatti non era rispettato non veniva rispettato questo era il motivo del ricorso col quale parliamo scusami costabile del 2018 2018 sì perché il piano 2018 poi c'è da dire un'altra cosa c'è da dire pure che questo diciamo l'atto di indirizzo aziendale che viene dato è un atto di indirizzo che è successivo alla legge del 2015 quindi c'è un atto di indirizzo della regione che è del 2016 al quale poi è stato è stato stato dato seguito sempre con una sorta di copia in colla fino al 2018 perché l'atto di indirizzo generale quello del 2016 poi è stato riportato negli anni successivi anche nel 2018 che è stato quello da poi dal quale scaturisce il decreto diciamo la il decreto del commissario d'acta per la riorganizzazione della rete ospedaliera faccio due brevi considerazioni la prima è che la situazione dal 2016 al 2018 anzi meglio al 2020 perché poi questa discussione nei fatti si è tenuta nell'ottobre 2020 in piena pandemia in piena situazione emergenziale per tutta la nostra nazione e quindi anche per agropoli e anche per il nostro cilento quindi credo che piuttosto che difendere delle posizioni credo che questo momento al tar e abbiamo visto in questi giorni abbiamo visto oggi parliamo delle scuole il tar ha deciso di riaprire le scuole il tar ha deciso di riaprire le scuole da domani le quarte le quinte dalla settimana prossima le scuole le scuole medie saranno saranno in presenza perché c'è una sentenza del tar quindi il rammarico è insomma secondo me l'occasione persa è anche quella del tar che piuttosto che entrare nel merito e entrare diciamo in un pieno momento sarebbe stata quella l'occasione per dire pretendiamo i cittadini e quindi pretendono che queste prestazioni vengano erogate perché poi fra l'altro non sappiamo nemmeno se nel frattempo dal 2018 a oggi la situazione è cambiata di fatto perché nel 2018 molte cose non c'erano che oggi ci sono per onor del vero va detto anche questo però noi non possiamo fermarci a contentare di quello che insomma viene con grande difficoltà conquistato dobbiamo dobbiamo pretendere che si arrivi a una definizione quantomeno nel discorso del pronto soccorso che sia non solo una centrale del 118 o lo spostamento dei 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 pazienti oppure il primo il primo arrivo dei pazienti per poi dislocarli in a secondo del del caso e dell'emergenza ma un pronto soccorso che risponda a questo nome che risponda a questi connotati che dia la garanzia quantomeno della rete dell'emergenza a questo territorio ma il tar che cosa ti ha risposto proprio nello specifico se hai il testo il tar il tar ha risposto che anche in ipotesi ecco leggo testualmente è evidente che anche in ipotesi di accoglimento non è la presente sede giurisdizionale impugnataria a poter risolvere si fatte riserve apparendo più pertinente un'azione di stimolo alla concreta realizzazione delle misure attuative eventualmente attraverso richieste ed intimazioni alle competenti amministrazioni per il compimento di tutti i necessari ad impimenti al decreto oggetto di impugnazione praticamente uno scaricabarile in sostanza il tar ha detto non è questa la sede competente ma potete fare un'azione di intimazione di sollecito alle amministrazioni competenti quindi dovremmo sollecitare l'asl che nel frattempo si è costituita piuttosto che andare a dire come ha fatto per la scuola aprite queste scuole aprite oppure garantite i servizi perché noi alla fine richiedevamo quello con questo ricorso garantite i servizi in questo ospedale non è questa la sede competente quindi dovremmo noi oggi in virtù di questa di questa sentenza compulsare le amministrazioni competente quindi regione e asl per ottemperare quindi rispettare quello che la legge prevede per un presidio ospedaliero di primo livello come un ospedale di agropoli allora voglio dire siamo in un momento storico particolare dove la rabbia la delusione anche rispetto a certe vicende e torno a dire anche perché credo che su questa vicenda bisognava mettere maggiore pressione ci voleva maggiore coinvolgimento ecco oggi ne sto parlando io ma altrimenti questa è una situazione che poteva anche passare in secondo ordine e nel silenzio generale nell'indifferenza generale però qui ci voleva una grossa sensibilizzazione le amministrazioni i comitati su questo su questo giudizio perché quando il tar si doveva trovare di fronte si è trovato di fronte a una sentenza del genere piuttosto che trovarsi la insomma la comparsa o la presenza di un di un comune o di un avvocato nel caso specifico insomma era il momento anche di poter tornare e considerando il momento particolare considerando quello che è la difficoltà che stiamo vivendo in questo momento e ci stiamo rendendo conto della difficoltà soprattutto della sanità pubblica che è puntualmente oggi in sofferenza per quello che è la situazione emergenziale che stiamo vivendo poteva essere questo il momento quando meno per intimare all'ASL di garantire quello che la legge dice o addirittura di rivedere il piano ospedaliero anche alla luce di quelli che sono le difficoltà poi è chiaro che a monte di tutto questo c'è una volontà politica che è quella di rivedere e quello di insomma di riorganizzare di entrare e di entrare nel merito io spero l'ho detto io sono tendenzialmente sono ottimista sono fiducioso oggi stiamo sentendo recovery, stiamo sentendo messo, stiamo sentendo tante risorse che saranno assegnate alla sanità e io credo che l'ospedale di Agropoli sia l'esempio plastico, calzante di come oggi noi non possiamo rinunciare alle risorse come noi oggi non possiamo rinunciare a rimettere in piedi sul nostro territorio una sanità che risponda a questo nome, una sanità efficace, efficiente, soprattutto la sanità pubblica perché nel frattempo abbiamo sottratto risorse della sanità pubblica per trasferire competenze e trasferire servizi della sanità privata, nulla contro la sanità privata ma credo che questi giorni, questi momenti ci hanno fatto capire come la sanità pubblica sia importantissima nel nostro territorio a partire dalla medicina di base per arrivare poi al presidio ospedaliero, l'ospedale che è la cosa più eclatante, quindi diciamo in questo momento soprattutto leggere poi una sentenza, leggere una cosa del genere ti fa rabbia, ti fa capire come forse tutto il sistema vuole che le cose vadano così, forse tutto il sistema dalla politica al tar, a chi ha le responsabilità, perché insomma dobbiamo capire che in questo momento solo tutti quanti insieme, solo tutti quanti uniti è quando possiamo capirlo se non quando lo tocchiamo con mano, in questo momento non dovrebbe esserci nessuno a portare una tesi diversa se non quella del potenziamento e della riattivazione che poi fra l'altro di cose che ha stabilito la legge, cioè noi chiediamo quello che ha stabilito la legge, che è una legge dello Stato che stabilisce i criteri minimi, oggi io non lo so, onor del vero, nel 2018 non erano rispettati, tanto è vero che l'ASL disse faremo, diremo, organizzeremo le sale, organizzeremo i reparti, organizzeremo, daremo il personale, daremo, faremo coniugato una serie di cose al futuro, oggi non so nel 2020 e non sono certamente io a dover compulsare o a dover sollecitare le amministrazioni come dice il TAR. Oggi volevo un'azione che dice rispondimi e mi dici se le cose che sono previste e se i servizi che questo ospedale devo dare sono funzionali e rispondenti alle esigenze dei cittadini, perché è uno standard nazionale che non può essere sottaciuto e soprattutto non può essere minore o non può essere ridotto rispetto a quello che è il resto della nostra nazione. Questo è il punto vero e su questo si doveva aprire un grande dibattito con tutte le forze politiche, con tutte le forze che possono mantenere e hanno a cuore questa struttura e questo territorio, perché poi noi parliamo di territorio in genere, ci riempiamo la bocca, ma questi sono problemi che tocchiamo con mano. E quindi questo è per chiudere un poco questa vicenda legata a questa sentenza. Io ti ringrazio perché mi dai la possibilità di parlarne di questa cosa e non nascondo la mia amarezza, il mio rammarico, perché ripeto è uno sforzo che io ho fatto perché credevo in questa azione, che era poi d'altra parte l'unica possibile, che era quella di impugnare questo decreto dinanzi a un giudice, dinanzi al giudice amministrativo. E questa è la sentenza che in qualche modo, diciamo, salomonicamente sollecitate chi di competenza, gli enti che hanno questa competenza, hanno questa responsabilità a stimolare affinché si facciano tutte quelle che sono le cose previste in questa struttura. Diciamo che non ci possiamo accontentare e che credo sia un'altra occasione persa. Un'altra sconfitta. Un'altra sconfitta. Del territorio. Non mia, perché ho fatto quello che potevo e ho fatto quello che era nelle mie possibilità, ma credo del territorio, perché insomma ripeto, abbiamo assistito ieri a una sentenza della scuola che il Tar sconfessando è un'ordinanza del presidente della giunta regionale, del governatore, fa ritornare in presenza le scuole. Su questo era il momento dove si poteva dire attenzione, quando meno non lo modifichiamo perché non entriamo, noi ne abbiamo le competenze di modificare, ma rimandiamo all'ASL per creare uno strumento adeguato che risponda alle esigenze del territorio. Poi lo discutevamo, lo discuteva l'ASL, lo discuteva chi di competenza, lo discutevano le associazioni, le categorie, gli enti interessati, perché questo è il momento dove poter tirare, perché se non in questo momento queste battaglie non si fanno in questo momento, sono battaglie che probabilmente non riusciremo a fare mai più. Quindi questo è quello che mi rammarica, quello che mi dispiace e che mi addolora. Io però ho fatto quello che potevo, più di questo io non posso andare oltre quelli che sono i canali. Spero che, però ripeto, voglio essere ancora fiducioso e ottimista, spero che la politica regionale abbia un sussulto, ascolti le amministrazioni locali, le associazioni, le popolazioni e dia l'esempio giusto, come detto prima, plastico dell'ospedale di Agropoli, dia un segno forte, importante di come utilizzare le risorse perché la salute non può essere legata a tagli di bilancio. Oltretutto abbiamo superato, abbiamo avuto sempre l'ostacolo del commissariamento della sanità in Campania, oggi usciamo, siamo usciti dal commissariamento, arriveranno risorse per la sanità, anche la regione Campania e mi voglio augurare, voglio credere e voglio sperare che queste risorse vengono destinate anche al Cilento e anche all'ospedale di Agropoli. Senti, adesso che non sei più sindaco e quindi qualche dichiarazione la puoi fare sbottonandoti tra virgolette, io penso che anche in passato sei stato lasciato solo, da solo, insomma la cosa che mi rammarica molto come giornalista, ma anche come cittadino è la non presenza di tanti altri amministratori del Cilento per appoggiarti soprattutto sull'ospedale di Agropoli. Adesso con la tua esperienza di nove anni da sindaco di Castellabate, che cosa mi puoi dire, insomma che cosa puoi valutare in merito a questa mia riflessione? C'è stata oppure no un interesse? A me sembra di no e quindi forse ci meritiamo anche questa situazione. Guarda, ci sono delle battaglie che diventano anche scomode, usiamo questo termine, scomode perché inevitabilmente vanno a incidere, vanno a cozzare anche con livelli superiori di governi dei territori, quindi regione, Stato. E quando queste battaglie diventano scomode, molte volte ci si pensa bene prima di schierarsi contro, schierarsi dalla parte di chi è il potere, di chi è potente, diciamocela tutta. Oggi non si è voluto fare una battaglia contro De Luca perché non è la persona De Luca, alla quale riconosco anche di aver fatto cose buone, ma per quanto riguarda la sanità e per quanto riguarda questa parte di territorio, sicuramente non è stata trattata come questa parte di territorio merita, per quanto riguarda la sanità e mi riferisco all'ospedale di Agropa. E questa è una battaglia che doveva essere fatta, non doveva essere nascosta e non poteva e non poteva essere una battaglia di una parte o di un colore. Io sono stato, l'ho detto sempre, anche qui da te, io sono un caldoro, hai chiuso l'ospedale, l'ospedale di Agropa, insieme agli altri comuni, la differenza è quella, che io insieme agli altri comuni l'ho fatto perché era giusto fare, io ho organizzato i pullman per portare la protesta a Salerno e all'Asla, ma perché in quel momento io ho messo l'interesse della comunità, delle comunità che questa struttura serve rispetto alle appartenenze o alle ideologie. Poi abbiamo visto quello che succede con la Fidu, abbiamo visto che succede nelle due Camere, quindi alla Camera e al Senato, quindi figuriamoci che cosa, quanto può essere ancora oggi un discorso ideologico o di appartenenza. Credo che al primo posto debba essere comunque solo quello dell'interesse pubblico, dell'interesse collettivo, che è quello che viene al primo posto. Certo, ci poteva essere un po' di... Ma questa è una storia vecchia, insomma, che purtroppo questa struttura paga scontato negli anni, insomma, le scelte anche locali, insomma, una serie di cose che purtroppo non hanno, come dire, non hanno aiutato, contribuito a questa, diciamo, all'evoluzione e al mantenimento di questa struttura. Però speriamo di recuperare. Speriamo. Beh, un po' difficile, perché io, insomma, non sono così tanto positivo per il recupero dell'ospedale di Agropoli, anzi, volevo invitarti a un'altra considerazione attuale, ovvero, insomma, io penso che la dicitura Covid ospita all'Agropoli sia sbagliata. fondamentalmente dovrebbe essere reparto Covid di Vallo della Lucania, zona Agropoli. Cioè, secondo me è molto più giusto, perché non è altro che un reparto, quello di Agropoli, e non è un ospedale per gestire i malati Covid. Non so tu che cosa ne pensi, perché poi gli altri servizi, vedi radiologia, vedi laboratorio di analisi, vedi assunzioni di medici che non ce ne sono state, almeno per quanto mi risulta, c'è stata solo un'assunzione in termini di personale, di cooperative che, insomma, fanno i servizi, insomma, di igiene e quant'altro, e qualche infermiere, tutto qui. Poi ci sono tantissimi medici che lavorano in Alpi e questa è un'altra grande, insomma, pecca che abbiamo nel nostro ambito sanitario e quindi nello specifico l'ospedale di Agropoli, che rimane ancora una sorta di bancomat. Io mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo. Quindi volevo invitarti a questa considerazione. Guarda, che la sanità, voglio dire che per quanto riguarda la sanità in generale, ma nel particolare l'ospedale di Agropoli, insomma, viva questo momento che è un momento ormai lunghissimo, di grande difficoltà, insomma, sappiamo tutti che la rete dell'emergenza oggi non sia adeguata a quelle che sono le esigenze di questo territorio. Lo sappiamo, il Covid ha fatto venire fuori ancora di più la difficoltà della sanità in quest'area, nonostante l'applicazione, l'impegno, l'abnegazione del personale, delle persone, perché ad esempio ho visto le cusca sul territorio, le organizzazioni, c'è una mancanza di collante, di, come dire, di organizzazione che è venuta fuori anche nelle comunicazioni semplici, perché giustamente anche loro, poverini, lasciati così, ma anche i medici di base, insomma, non sono stati coinvolti, non sono stati inseriti in un circuito, adesso lo vedremo con le vaccinazioni, io prevedo tempi lunghissimi per le vaccinazioni, a parte i ritardi, ma proprio come struttura organizzativa per arrivare capillarmente, insomma, soprattutto nei nostri territori, fatti di micro realtà, di paesi, di anziani, quindi prevedo che, insomma, grandi difficoltà anche per i vaccini, e dicevo, perché non si è riorganizzata, ecco, e quando si parla di riorganizzazione, di riorganizzare gli ospedali, ma riorganizzare la medicina di base, è una cosa fondamentale, quindi è un discorso molto più importante, che richiede risorse, insomma, sono consapevole, lo so, mi rendo conto di quello che è, però sono delle scelte che in questo momento vanno fatte, vanno fatte, non possono essere procrastinate, recuperare, riorganizzare, anche in questo momento, soprattutto in questo momento, in questo momento difficile, e quando, e quale momento migliore per non mettere mano, riorganizzare, ed ecco il rammarico, e quando è il momento migliore di questo per non, con una sentenza di un tardice, rivedete, riorganizzate, sedetevi a un tavolo e vedete come rispondere alle esigenze del territorio, questo deve fare il tardice, organizzatevi, non entro nel merito, non entriamo nel merito, ma quantomeno ridiscutete, verificate se queste cose possono essere, se a queste cose può essere data risposta, questo è un po' il senso, il senso della vicenda e del rammarico, ecco, lo voglio definire così, rammarico rispetto a questo episodio, rispetto a questa vicenda. Un'altra vicenda che ho letto anche sulla tua pagina Facebook è quella relativa al Castelsandra, come tutti ricorderete, insomma questa struttura che tanti anni fa, io ero giovanissimo, ospitava una serie di turisti anche di grande livello, ecco, vedete le immagini, anzi ne approfitto per salutare in regia Andre Giaccio, e dunque sulla tua pagina Facebook hai dovuto rispondere a una critica, a un attacco che ti fa l'ex direttore del parco, se non vado errato, Tarallo, giusto, direttore o presidente? Presidente del parco, Tarallo, che insomma dice, che parla di posizioni e progetti dell'amministrazione comunale di Castellabate del tutto illegittimi, ecco, spiegaci perché sei entrato in polemica e anche con Castiello, col senatore Castiello, che cosa è successo? La vicenda è molto semplice, questo è un bene, c'è una lunga storia processuale che parte da quando questo bene è stato confiscato, negli anni 90, poi comunque va avanti per tantissimi anni, fino ad essere consegnato nel 2011, se non ricordo male, al comune di Castellabate e quindi nella disponibilità, perché è un bene che nasce su terreni, sugli usi civici, quindi gravati da uso civico e quindi viene consegnato al comune di Castellabate. Quindi il comune di Castellabate diventa proprietario di questo terreno nel 2011? Nel 2011, si chiude questa lunga vicenda giudiziaria e arriva al comune di Castellabate. Chiaramente il comune di Castellabate in questi anni ha sempre sostenuto la tesi della conservazione del corpo centrale, che è regolarmente autorizzato con licenze degli anni 70, quindi sono state di l'hotel, no? Esatto, la parte del corpo centrale. Mentre tutto il parco, tutto quello che nasceva intorno, che erano circa 28, se non mi ricordo male, billette, più una serie di altri manufatti presenti nel parco, che non erano autorizzati, quindi la demolizione. Questo è stato quello che il comune ha sempre sostenuto, quello che anche io sostengo, sul quale credo, ecco, qui l'interrogativo è una valutazione senza, come dire... Conoscere i fatti. Ma no, a parte conoscere i fatti, ma cercando di non essere, di non cadere in facili strumentalizzazioni e demagogie, diciamoci la verità, perché oggi rispetto a questa tesi della conservazione del corpo centrale, c'è chi, insomma, ci siamo scontrati anche durante le fasi processuali con questa corrente, questa scula di pensiero che voleva l'abbattimento integrale, totale di tutta l'area, insomma, perché bisognava comunque abbattere questo bene. E oggi questo è successo. Nel 2017 abbiamo abbattuto la parte centrale, grazie a un finanziamento del Ministero dell'Ambiente, abbiamo abbattuto questa parte centrale, perché era questo il limite, perché se non si sanava di tutti gli abusi, quella struttura non poteva sicuramente esistere, perché parlavamo comunque di una struttura di abusi. Allora, la parte centrale dicevo che abbiamo sottoscritto una convenzione con il Parco Nazionale del Cilento, con la sorrindendenza, per creare una cabina di regia alla quale appunto partecipano questi enti per valutare il percorso progettuale, il percorso di recupero di questo bene. Questo nel 2017. Con una finalità, che è quella turistica, quella alberghiera. Qualcuno mi dirà, ma perché alberghiera? Perché guardate, non ci nascondiamo dietro a un dito, se non c'è capitale, se non c'è risorsa, se non c'è investimento, questa struttura, uno non la recuperiamo e due se la recuperiamo non la manteniamo. Io credo invece che le risorse pubbliche vadano spese, vadano investite nei servizi, nella sanità, nell'ospedale di Agropoli, perché quelle sono le strutture, quelle sono le cose che devono essere portate, sulle quali bisogna investire in termini di efficienza, di personale e per dare servizi importanti ai cittadini. Quella è una struttura che, recuperata, può essere un volano, si può aprire anche all'apporto con tutti i grismi dell'attenzione, della legalità e del controllo, con l'intervento della prefettura, con l'intervento dell'antimafia, con tutti i controlli che noi vogliamo mettere a garanzia di tutti per vagliare queste posi, ma una struttura che ritorni nella sua funzione, che crei ricchezza, che possa mantenersi nel tempo, perché rischiamo altrimenti di creare una cattedrale nel deserto che poi non si mantiene se non produce almeno risorse per autosostenersi, per mantenersi. Quindi rischieremo in questo caso di creare, come dicevo, una cattedrale nel deserto, atteso che l'obiettivo non è quello, perché l'orientamento è quello di abbattere completamente. Non entro in polemica con Tarallo, però la visione diversa è quella di recuperare un bene, lo scempio secondo me sarebbe quello di abbattere completamente e lasciare una ferita incolmabile in una montagna, in una collina, quello sì sarebbe uno scempio. Recuperare significherebbe far ritornare alla collettività, ritornare un bene che può essere un patrimonio che crea posti di lavoro, che crea in un posto dove noi abbiamo necessità di posti letto, di strutture, di eccellenza, perché abbiamo un territorio a forte vocazione turistica, non abbiamo fabbriche o indotti industriali o comparti industriali, abbiamo la più grande industria che è il turismo, quindi il turismo ha bisogno di infrastrutture. Se questa c'è e noi riusciamo ad attirare una grande catena che è presente in tutto il mondo, che arriva nel nostro territorio, investe e crea ricchezza, io non vedo che cosa c'è di cui noi possiamo scandalizzarsi. Anzi, noi dobbiamo attrarre risorse nei nostri territori, attrarre capitali e attrarre generatori di ricchezza, perché un'attività del genere diventa generatore di ricchezza per l'ospitalità, per le strutture, per i posti di lavoro. E questo è stato un poco quello che io ho voluto dire. Poi ai senatori interroganti, anzi, è su questo, perché poi in effetti io non entro in polemiche, però ho letto l'interrogazione che Tarallo ha sollecitato al senatore Castillo che cosa chiedeva in questa interrogazione. Uno la verifica, perché nel frattempo il Comune di Castellabate è stato destinatario anche di un finanziamento per la progettazione, perché progettare e recuperare un bene così importante solo di spese tecniche per mettere in piedi una progettazione puntuale che risponde oggi a quella situazione, che è una situazione compromessa, come si vedeva dalle immagini. Quindi bisogna ripartire da zero. È un costo che un Comune non si può addossare, non si può accollare, perché è effettivamente oneroso. Siamo riusciti ad avere un finanziamento finalizzato a dotarci di una progettazione, quindi dotare il Comune di Castellabate di una progettazione e che cosa, nella interrogazione che cosa si chiede? Uno la revoca di questo finanziamento, perché è del tutto, dal loro punto di vista, illegittimo, quindi di conseguenza non si può progettare su un bene che è illegittimo e quindi sarebbe uno sperpero di risorse. E di più, questa secondo me che è ancora più grave, l'annullamento della convenzione, del protocollo d'intesa scritto con la sovrintendenza e il parco per il recupero, perché insomma anche quello illegittimo è infondato, perché quella non è una cosa che può essere recuperata. Quindi questo è il principio. Allora, mi viene una riflessione rispetto all'interrogazione dei senatori e del senatore Castile in modo particolare. Mi piacerebbe anche conoscere il pensiero dei 1150-1200 elettori del comune di Castellabate che hanno deciso di farsi rappresentare dal senatore Castiello nel 2018. Insomma, voglio anche fare questo inciso e mi piace anche sottolineare questo aspetto, perché oggi la crescita di un territorio, delegare e farsi rappresentare significa anche far crescere un territorio. Quindi su questa cosa io ho pensato e ho replicato, ma non per entrare in polemica, perché sono due visioni del mondo diverse evidentemente. Non ho la presunzione di dire che la mia è quella giusta e quella corretta, ma sono due visioni. Io rispetto gli altri modi di pensare, però non possiamo immaginare con questa chiusura, con questo blocco bloccare ogni possibilità, precluderci ogni possibilità. Quindi questo è stato il senso del post, ma senza voler entrare in polemica, come mio costume, d'altra parte. Però è giusto, io mi auguro che il comune di Castellabate porti avanti, chi verrà, porti avanti questa iniziativa, non cambi idea rispetto a quello e porti avanti quanto stabilito faticosamente con quel protocollo sottoscritto con la sovrimendenza e il parco. Io invece mi auguro che Castiello cambi idea e dia maggiore supporto affinché il progetto possa andare avanti, perché mi sembra che è fermo dal 2017, no? Tranne il fondo per la progettualità che è arrivato, però per il resto tre anni sono tanti. Certo, perché c'è bisogno, perché anche qui c'è bisogno di risorse, c'è bisogno di mettere in piedi la progettazione, c'è bisogno di avviare degli atti, c'è bisogno di fare un interprocedurale molto complesso con la burocrazia con la quale oggi nella situazione in cui ci troviamo, con la quale ci troviamo a fare i conti. Quindi avviare un'opera così complessa, ripartendo dalla progettazione, dalla destinazione, quindi gli aspetti vincolistici, gli aspetti procedurali e quindi sono tante le difficoltà. Ecco perché io l'appello che faccio chiedo di essere vicini, perché non è un'operazione talmente importante, talmente grossa, che non può da solo il Comune di Castellabate portare avanti. Quindi c'è bisogno di aiuti e c'è bisogno di collaborazione e di condivisione. Ecco perché dico, sono due modi di vedere, due interpretazioni del mondo e della vita, evidentemente, diversi. e quindi per andare nella direzione di un recupero e per far ritornare a una sua funzionalità questo bene. Anche perché c'è una difficoltà oggettiva, non è una cosa semplicissima da fare. Tu ricorderai, noi parliamo della stessa area dove la sua intendenza addirittura ha impugnato una conferenza di servizi per la bonifica di una discarica. Lì però, ecco, ci volevo arrivare, lì però hai avuto la meglio, fortunatamente, ce l'abbiamo fatta. Ma sì, ma per fortuna, ma con un ritardo anche lì di tre anni, a rischio revoca di un finanziamento. Cioè parliamo di un finanziamento di un milione e 300 mila euro. Partiamo dall'inizio però, altrimenti magari qualche telespettatore si è perso il filo. Quindi dal Castelsandra ci spostiamo su Piano Melaino. Tempo fa era stata individuata come discarica quel posto costabile. Perdonami se interrompimi. No, quella era una discarica. Era proprio una discarica negli anni 70, negli anni 80 e ogni comune si dotava, non c'erano ancora i consorzi, non c'erano ancora le leggi che ci sono attualmente, quindi ogni comune si dotava di un proprio sito dove sversare i rifiuti. Eravamo negli anni 70, negli anni 80 e lì c'è stata questa discarica che è stata in funzione, ripeto, se non mi ricordo male, fino agli anni 90. E quindi questa è lì ed è qualcosa sul quale qualche intervento già si è fatto. Siccome è stata inserita in un piano regionale di bonifica delle discariche, anche questa è inserita e per questo c'è stato un finanziamento. Un finanziamento. Questo finanziamento, noi ci siamo accorti, strada facendo, che l'aria interessata era maggiore rispetto a quello che era inizialmente il progetto iniziale e abbiamo chiesto di modificare e di estendere a tutta l'aria interessata la bonifica e il recupero. Fra l'altro in quel periodo abbiamo fatto anche, ho chiesto e voluto espressamente che si facessero delle indagini anche nel sottosuolo, proprio perché per tranquillità e per verifica, però abbiamo le falde acquifere e quanta... Oltre alle falde, che quelle sono già, insomma, è già una prassi, diciamo, sulla quale c'è l'attenzione dell'ARPAC e dell'ASL prima di rilasciare i progetti, questa è già ordinaria, ma io sono voluto andare anche oltre per accertarmi se lì in quelle discariche negli anni 70, negli anni 80, quando i controlli non erano quelli che ci sono adesso, fosse stato sversato solo rifiuti urbani o altro, e quindi questo è il vero problema, la vera preoccupazione è quello che stava a cuore a tutti quanti, quindi diciamo abbiamo utilizzato questo finanziamento anche per fare questi sondaggi, queste prove, per vedere in profondità andare nel sottosuolo, per fortuna sono solo rifiuti solidi urbani, quindi tipici delle discariche che si facevano negli anni 70, oggi siamo al punto che questa discarica va recuperata, abbiamo questo finanziamento e quindi c'è il recupero. In questa storia, ma ne abbiamo parlato abbondantemente, penso che, insomma, stanchiamo anche chi ci ascolta nel ripeterla. Chiamiamolo in causa anche Sgarbi, ti ricordi, facciamo una diretta proprio qui sul Cilento. E quindi, diciamo, c'è stata questa posizione che, insomma, ha dato un parere contrario, addirittura non solo nella conferenza di servizi, ma ha impugnato questo provvedimento autorizzativo, perché era munito di tutti i pareri di ARPA, CAS, Regione, Provincia, cioè tutti i pareri parco, tutti i pareri positivi, tranne quello della sua intendenza, che non contenta di questo, ha impugnato questo provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, figuriamoci con tutto quello che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha in questi periodi si poteva interessare, però alla fine siamo arrivati anche con sollecitazioni e con interrogazioni parlamentari che ci sono state su questa vicenda, siamo arrivati anche alla definizione per cui è stata autorizzata, è stato sbloccato quest'iter, quindi si potranno riprendere i lavori, quello che la sua intendenza voleva anche qui, una visione diversa della vita, bloccare, non far perché c'erano il problema degli attecchimenti, il piano del verde degli attecchimenti, ma veramente parliamo di cose importanti, ma non tali da bloccare un intervento di questa portata, diciamoci la verità, come mantenere questo. Alla fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sbloccato, ha detto di procedere mantenendo, anche in maniera salomonica, mantenendo, prestando attenzione alle sollecitazioni, alle richieste della sua intendenza rispetto alla piantumazione, al verde, al piano dell'attecchimento delle essenze arbore, ma siamo nel campo veramente delle cose che non hanno bisogno di arrivare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono quelle cose che si possono discutere tranquillamente in un faccio a faccia di una verifica prima del rilascio dei pareri, cose che peraltro avevo dato ampia disponibilità a rivedere e a uniformare, fare uniformare anche i progetti e lo standard a quello che erano le richieste della sua intendenza. Comunque, per fortuna è andata così, la bonifica si farà, il finanziamento non si perde, mi auguro anche qui che si proceda speditamente, che si porti avanti quest'opera di bonifica importantissima, oltretutto che è già finanziata. Benissimo, direi che il nostro tempo è terminato, purtroppo direi, perché poi è sempre un piacere parlare con l'amico Costabile Spinelli. Costabile, io ti aspetto per eventualmente altri focus, sempre per parlare di produttività, territorio, insomma sei comunque un nostro punto di riferimento, nonostante per ora, e mi auguro soltanto per ora, sei fuori dalle istituzioni, quindi io ti ringrazio per aver partecipato. Grazie a te Gianni, grazie a voi, grazie a Cilento Channel, mi avete dato la possibilità anche di parlare di questo discorso della sentenza, che era poi il motivo vero, insomma la cosa principale di questi giorni, perché è stata pubblicata in questi giorni, insomma speriamo che anche questo sia una piccola goccia, qualcosa però che serva a mantenere alta l'attenzione, a far sì che più persone, più, insomma tutti, ognuno per la propria parte si attivino, non facendo cadere nel, come dire, nel dimenticatoio, no perché lì, ma però nella sue fazione, perché poi il rischio è quello di abituarsi a uno standard e noi poi ci abituiamo, questo è, questo siamo abituati e quindi col tempo poi ci abituiamo e non protestiamo nemmeno, questo è il rischio vero e spero con queste con queste azioni che, ripeto, forse qualcuno dirà, lascia il tempo che trovo, perché ho prodotto, però io dal mio punto di vista ho messo quello, ho fatto quello che potevo fare, ma proprio per questo motivo, cercare di sensibilizzare e cercare di non far, di non abituarci, perché non ci possiamo abituare all'idea di avere solo un punto di arrivo e di transito per poi, che poi va dislocato presso le altre strutture anche in caso di emergenza, questa è la cosa più importante e alla quale non ci possiamo abituare e non ci dobbiamo abituare. E spero che sia anche una sollecitazione per tanti amministratori locali che secondo me un poco dormono. Grazie a tutti per averci seguito e l'appuntamento con Cilento Focus per una prossima occasione. Grazie a tutti.